eccoci qua ben trovati ancora in diretta sulle fonti tv benvenuti a trading markets mancano circa due ore poco meno di due ore all'evento di quest'oggi ovvero il cosiddetto california streaming dove apple lancerà il nuovo iphone 13 e non solo ci sono tantissime attese naturalmente perché possiamo vedere il nuovo potremmo vedere scusate il nuovo apple watch serie 7 e da non dimenticare gli airpods di terza generazione che forse a tempo fa sembrava ecco un piccolo contributo ma oggi fanno gran parte dei ricavi e poi di conseguenza dei profitti per quanto concerne l'azienda di copertino cercheremo di capire naturalmente a tutti i dettagli come posizionarsi sul titolo proprio in vista di questo evento e non solo in vista dei problemi che ha cercato di risolvere con il proprio software e di conseguenza gli attacchi hacker che sono stati possibili da fare tramite il messaggio il cosiddetto ai message senza addirittura aprirlo o schiacciare un qualsiasi link il vostro telefonino poteva essere già ecco contagiato di diversi virus che è un problema ripeto che apple ha cercato di risolvere nelle ultime proprio 48 ore dunque noi siamo in compagnia di filippo di orovic senior charges di ig e sante pellegrino santepitrader.com buon pomeriggio a tutti e due ben ritrovati sulle fonti buon pomeriggio alexandra buon pomeriggio a voi buon pomeriggio Filippo grazie buon pomeriggio a tutti e dunque brevemente vorrei iniziare con te Filippo perché questo evento è così importante per l'intera community del tech ecco ma assolutamente sì perché c'è tanta attesa ma tutti gli eventi di apple che fa annualmente questo in particolar modo perché a meno di colpi di scena ma non dovrebbe essere dovrebbe annunciare proprio il nuovo modello di iphone che anche qui il nome dovrebbe essere iphone 13 a meno che per motivi scaramantici tim cook non abbia deciso di cambiare il nome all'ultimo però ecco iphone 13 il nuovo modello di apple smart watch serie 7 che anche qui molte attese per questi per questi device e poi ci saranno anche possibili introduzioni sia degli airpods 3 e poi anche l'annuncio per quanto riguarda le date dei nuovi sistemi operativi dall'ios 15 all'ipad os 15 insomma il nuovo anche sistema operativo per i mac quindi è molto c'è tantissima attesa per un evento che è importante anche per capire se poi saranno ci sarà ancora nuovo entusiasmo sul mondo degli iphone ricordiamo è un anno record per apple che chiuderà l'anno fiscale con il nuovo record di vendite per gli iphone mi sembra 239 milioni di unità nell'anno batte quindi il 2015 quando ne aveva distribuite 231 quindi è sicuramente un anno estremamente positivo per apple e questo evento insomma darà anche la possibilità di tim cook per rilanciare nuovi prodotti dunque sante vengo proprio da te perché vogliamo come dire capire anche la parte un pochettino più specifica anche a livello di tecnologia quali sono le tue le tue attese ci sarà un iphone forse con il 5g mi sembra mi sembra anche giusto considerando i prezzi considerando anche l'avanzamento ecco di questo sistema e poi ne parleremo anche dei dei propri competitor insomma quali sono le tue aspettative anche perché tu tu ti occupi proprio del comparto telefonia molto molto attentamente e allora è da sempre che si parla di un 5g su apple però io penso che apple spose ancora la linea del perfezionare i modelli attualmente in commercio e sicuramente anche questa è un'attesa e sarà una sorpresa se stasera ci sarà il nome del nuovo telefonino con un nome numero 13 oppure un 12s questo è un po' quello che si vocifera per quanto riguarda il 5g c'è grande attesa ma penso che anche questa volta ci stupirà a apple rimandando la decisione forse alla primavera prossima anche perché apple ci è abituata da un po' di tempo a questa parte a rilanciare restyling perfezionamenti o accorgimenti anche nella primavera quindi il 5g può tranquillamente essere rimandato in primavera perché apple si concentra ancora una volta nel perfezionare l'uscita dei propri iphone iphone che dovrebbero essere distribuiti con una nuova versione del pro e del pro max con addirittura un terabyte di memoria cosa che da un po' di tempo insomma ci sta lavorando ci sta stupendo perché effettivamente telefoni con un terabyte in giro non ce ne sono il 5g è vero che ha conquistato anche buona parte del mercato perché tutta la telefonia si sta muovendo le vendite si sono accese proprio grazie alla al perfezionamento del 5g però diciamocela tutta milano è la città più all'avanguardia d'italia che che se ne dica eppure il 5g non è servito in tutte le zone quindi forse apple vuole aspettare al lancio del 5g magari per inaugurare anche l'auto del futuro quindi l'apple car vedremo quelle che possono essere le sorprese quello che mi aspetto io oggi e come diceva giustamente filippo e la la nuova serie 7 che comunque uno schermo più grande per gli apple watch e che prendono sempre più come dire spazio commerciale ovviamente hanno da record per apple però apple deve fare i conti con un grande concorrente che xiaomi che ha comunque scavalcato apple nelle vendite in questi ultimi 6 barra 9 mesi quindi l'ultimo quarter per tutte le aziende della telefonia per tutti gli smartphone sarà un quarter difficilissimo perché oltre a xiaomi hanno hanno cavalcato l'onda del successo anche l'oppo e quindi oppo che fa delle telecamere veramente eccezionali migliori di xiaomi altrettanto migliori di apple stessa ma anche di samsung ovviamente apple rimane comunque l'azienda da record per tutta una serie di iniziative che riguarderanno anche forse ad ottobre l'uscita dei nuovi processori m1 x ma soprattutto rimane l'azienda da record perché che che se ne dica a differenza dei concorrenti a un solo modello e con un solo modello riesce a conquistare il 30 per cento del mercato globale se nonostante lo shortage che c'è sul mercato perché in questo momento non va assolutamente dimenticato che c'è un forte shortage sul mercato mancano i prodotti mancano i processori mancano i semiconduttori mancano le materie prime o quelle che ci sono sono a prezzi esorbitanti quindi sicuramente un anno da record assolutamente per apple e vedremo se ci stupirà ancora una volta tim cook alla pari anche se era ineguagliabile steve jobs e comunque insomma c'è a attesa ecco alle 19 tutto verrà svelato no no assolutamente sarà sicuramente un evento estremamente interessante intanto filippo volevo capire poi torno da te sante anche per per cercare di capire come posizionarsi sul titolo sia a livello di intraday trading ma forse anche a livello di investimento invece filippo voi come siete qual è il vostro parere nei confronti di apple sicuramente un gigante senza alcun dubbio ha elencato molto bene xiaio missante perché assolutamente ha stravinto a livello di vendite quindi quali sono le prospettive secondo voi come dire di breve medio termine considerando un po tutte le problematiche che abbiamo visto con la mancanza di delle cosiddette materie prime sì tantissimi problemi per apple per mancanza di materie prime il shortage di microchip i problemi per quanto riguarda le cause giudiziarie sia da parte di epic games che da parte di spotify però apple continua almeno sui mercati finanziari e in borsa a segnare nuovi nuovi record quindi al momento le prospettive sono positive sia per quanto riguarda il breve che il medio periodo molto molto più molto probabilmente il lungo periodo potrebbe portare ecco delle correzioni importanti per quanto riguarda il titolo ma almeno il settore tecnologico e con apple in particolare è difficile andare contro questa tendenza rialzista che ha mostrato in questo ultimo periodo soprattutto in questi ultimi mesi dove è tornata verso l'alto è chiaro che ci sono delle delle possibili difficoltà come detto nel lungo periodo le cause giudiziarie che hanno fatto tanto rumore soprattutto in questo ultimo periodo hanno poi comunque portato apple a fare delle concessioni quella di inserire dei link esterni per bypassare il pagamento dell'app store ma comunque apple ha continuato sempre a mantenersi intorno ai 150 dollari quindi non troppo lontani dai massimi che aveva segnato qualche seduta fa quindi almeno da questo punto di vista noi rimaniamo ancora positivi sul titolo no assolutamente sì poi stai parlando appunto di queste cause legali molto importanti fra le altre cose sarà oggi proprio la prima apparizione di team cook dopo che il cosiddetto federal church ovvero il giudice federale proprio il venerdì scorso si è pronunciato in gran parte contro il tentativo del produttore di epic games ovvero proprio fortnite di annullare la presa di apple sotto questo punto di vista questo dibattito fra tra i due e molto 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 acceso negli ultimi mesi volevo capire se in questo caso che ha risolto diciamo questo problema potrebbe esserci un impatto positivo nel nel lungo termine si bisogna dire che è la causa legale sarà ancora diciamo molto lunga è vero il il giudice federale ha fatto una una prima sentenza che in gran parte dà ragione ad apple quindi non dichiara il monopolio di apple per quanto riguarda l'app store apple ha fatto qualche concessione soprattutto in precedenza come dicevo prima per soprattutto per il le cause portate avanti da piccoli sviluppatori e dalla dall'antitrust giapponese vedremo perché comunque epic games ha fatto ricorso in appello sarà una causa legale molto lunga potrebbe portare qualche problema ma al momento apple che immagino abbia una schiera di avvocati molto molto in gamba è riuscito a vincere la prima battaglia ci potrebbe essere sì un ritorno positivo vediamo perché sono molto gli vestitori stanno aspettando adesso l'apple event prima di prendere posizione giusto per dare anche un dato statistico negli scorsi apple event quindi a nel 2019 apple aveva iniziato un andamento laterale dopo l'evento nel 2020 c'era stato invece una certa un forte ribasso di quasi 10 punti percentuali perché insomma gli investitori sono stati scontenti vedremo insomma quest'anno se riuscirà a ribaltare con gli effetti degli ultimi due anni sante veniamo al dunque a livello di trading intraday oggi potrebbe essere una giornata interessante io lo dico anche perché sto vedendo l'indice della volatilità che si sta muovendo abbastanza siamo quasi a quota 20 siamo a 19,7 e volevo capire però focalizzandoci ecco rimanere sul discorso apple come posizionarsi sia a livello di intraday trading sia a livello naturalmente di investimento a lungo termine perché tu hai sempre detto che comunque rimane un titolo sempre nel tuo portafoglio appunto perché perché un'azienda estremamente solida è sempre all'avanguardia beh assolutamente sì ripeto sono forti dati del di apple nel fatto che con pochi prodotti di nicchia pochi prodotti di nicchia con tutti i difetti magari che uno ci può trovare perché poi nel mondo della programmazione dell'informatica c'è sempre chi sa più degli altri però con un solo prodotto un solo modello di telefono con un solo modello di notebook con un solo modello di case come desktop computer continua a fare numeri esorbitanti e per gli addetti ai lavori per chi fa audio per chi fa grafica per chi fa video sicuramente apple rimane imbattibile e poi nel tempo acquisito anche grandissime società tipo logic nel caso della della dell'audio acquisito garage band acquisito tanto e tanti programmi quindi ha una capacità di sviluppo e di come dire di acquisizione di leader di mercati fortissima quindi è sicuramente un'azienda dai forti fondamentali nonostante qualche passato un po' così infiammato però il ritorno di steve jobs dopo la pixar dopo la paccar bell è stato sicuramente un ritorno da filantropo in apple e che ha tracciato un percorso che difficilmente potrà essere violato e cambiato perché ovviamente tim cook che il suo erede scelto un po da lui anche sta portando avanti con 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 grande tenacia e con grande passione il lavoro che ha tracciato appunto steve jobs nel tempo e le quindi l'eredità è in buone mani ovviamente sul titolo a livello grafico nell'intraday molto importante il fatto che il titolo si sia appoggiato su questo supporto dei 149 65 dollari per azione un supporto importantissimo c'è da dire che il titolo fino a quando rimane sopra questo supporto e sopra i supporti di 145 dollari per azione può godere tutto sommato di un'aspettativa abbastanza realzista il problema qual è è che ci troviamo in un anno difficile dove anche lo stesso earning price for share è fortemente come dire tiracchiato da parte da parte di tutti i titoli del nasdaq quindi questo può far risentire purtroppo un iper comprato che si registra sul grafico stesso infatti abbiamo un iper comprato ma abbiamo anche una situazione di divergenza tra i massimi segnati a 150 dollari proprio a luglio verso il 15 luglio e massimi segnati invece già nella prima settimana di settembre qui c'è una divergenza ribassista purtroppo ed è per questo che nella candela di due giorni fa apple ha creato un reversal molto molto forte dei massimi di 155 dollari per azione che sono anche i massimi di resistenza ciclica un ciclo nuovo che è partito di breve periodo che è partito proprio settimana scorsa ha portato proprio su questo supporto importante ora da graficista vi direi che è in preparazione una conformazione di un pattern che è praticamente un head and shoulder si vede già la testa che è la testa dell'head and shoulder che è quella fatta dal massimo proprio della prima settimana di settembre poi tutta la parte della spalla sinistra segnata proprio dai massimi tra luglio e agosto quindi occhi assolutamente ben aperti sul titolo perché una discesa sotto i 145 dollari purtroppo è negativo l'unico motivo per ritornare rialzisti è il superamento dello swing dei prezzi segnato proprio tra i massimi di settembre e quindi superare i 157 e 83 quello è lo swing di mercato e quindi fino a quando non superiamo quei 157 e 83 non saremo fortemente rialzisti e va ricordato che il titolo è stato switchato un paio di anni fa e quindi siamo ancora in recupero del gap dello switch ecco volevo chiederti ultimissima domanda proprio in un flash il tu target price fino a fine anno purtroppo il mio target price per fine anno è attorno ai 125 dollari addirittura sì ok che sorpresa grazie mille sante pellegrino seo santepitrader.com grazie per essere stato con noi buon proseguimento grazie a voi buon proseguimento a voi grazie mille dunque grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille cazzo e andamento delle performance di titoli tecnologici, i rendimenti salivano perché c'era la paura delle pressioni inflazionistiche e quindi un forte ritorno dell'inflazione che si possa mantenere sempre così forte e che possa andare fuori controllo e che possa essere definita non più transitoria ma persistente potrebbe portare un forte calo per quanto riguarda i tecnologici, al momento ancora presto perché comunque i membri della Federal Reserve non sembrano preoccuparsene più di tanto, oggi ha confermato più o meno le attese, è stato un leggero rallentamento, quindi è vero che su livelli alti però non è passato al 6-7% su base annuale, quindi per questo potremmo aspettarci che poi quando la Federal Reserve incomincerà il processo di tapering dovrebbero diminuire le paure per quanto riguarda l'inflazione ancora di più, quindi al momento non è un pericolo ma potrebbe esserlo e potrebbe influenzare notevolmente le quotazioni per quanto riguarda i titoli tecnologici e soprattutto Apple. Dunque quale rimane allora il pericolo più importante? Questi colli di bottiglia che forse immagino causano problemi non solo per la produzione delle auto ma anche per la produzione dell'intero comparto della telefonia, non lo so, quali sono i rischi a tuo avviso? I rischi principali intendo dire? I rischi principali per i corsi di Apple sono tre, uno l'abbiamo appena detto che è quello dell'inflazione e delle politiche monetarie da parte delle banche centrali, soprattutto della Federal Reserve, il secondo sono i colli di bottiglia perché comunque anche Apple dopo il settore auto ha subito comunque un rallentamento per quanto riguarda la distribuzione delle proprie catene distributive e vedremo se gli sviluppi della pandemia permetteranno comunque di risolvere in maniera molto più veloce questi colli di bottiglia e il terzo è quello delle cause legali perché come detto rimangono ancora in essere delle cause legali soprattutto legate all'antitrust che potrebbero comunque portare dei colpi, come abbiamo detto in precedenza, ha vinto una battaglia Apple ma ne avrà ancora tante da vincere per riuscire a sconfiggere i propri competitor e non è detto che tutti i giudici federali poi daranno ragione alla casa di Cupertino. Quindi dunque solo per riassumere naturalmente come possiamo descrivere quest'anno per Apple nel senso da una parte le cause legali che hai naturalmente citato, dall'altra parte però profitti record poi un anno importante perché sono dieci anni dalla guida di Cook, appunto la guida ha preso la guida di Apple circa dieci anni fa, anzi esattamente dieci anni fa, quindi comunque si tratta di un momento a parte storico anche molto importante, come definiresti quest'anno? Di grande successo o anche di grande difficoltà che sono legati anche a queste problematiche proprio di sicurezza per tutti gli utenti Apple che sono stati risolti a quanto pare? Sì, allora l'anno io lo definisco straordinario, quando un titolo segna massimi storici è da definire comunque straordinario l'andamento del titolo che ha continuato insomma a rimanere sui top per lunghissimo tempo. È vero, all'orizzonte ci sono tanti problemi, ci sono alcune cose che non sono andate bene nella gestione di Tim Cook, per esempio come l'Apple TV Plus che non è riuscita a seguire i successi per quanto riguarda Disney Plus o minimamente scalfire il successo di Netflix. Quindi ci sono alcune cose che non vanno e che possono essere migliorate, una in particolare soprattutto per quanto riguarda l'innovazione, perché prima Santa Pellegrino parlava del nuovo iPhone e non ci dovrebbero essere queste grandi novità, se non una telecamera magari molto più potenziata e una migliore batteria, però rimane più o meno un modello molto simile, quindi manca un po' di innovazione sul prodotto da parte di Apple, ma rimane sempre comunque leader sul mercato, ha competitor soprattutto quelli cinesi molto competitivi, vedremo però insomma, come detto noi ci aspettiamo comunque il breve medio periodo ancora forte Apple, nel lungo periodo potremo assistere a una forte riduzione dei corsi per quanto riguarda il titolo. E dunque volevo capire quali sono le vostre novità a livello di IG prima di lasciarci per questa serata. Grazie alla domanda perché abbiamo introdotto proprio recentemente nuovi strumenti per investire anche sull'azionario e soprattutto sui titoli statunitensi e in particolar modo su Apple. Ricordo che infatti da oramai qualche giorno abbiamo introdotto i certificati Turbo 24 proprio anche sull'azionario, quindi anche su Apple si può investire con il primo strumento finanziario quotato che ha zero commissioni sull'azionario. Quindi per questo consiglio di provarlo, di andare sulla nostra piattaforma, provarlo anche con la piattaforma demo perché è sicuramente uno strumento molto flessibile dove si può scegliere la leva finanziaria e si può operare anche all session, quindi anche nel pre-market e nell'after hours. Quindi immagino che comunque Apple è uno tra i titoli più scambiati sulla vostra piattaforma in questi termini o meno? Assolutamente sì, Apple e Tesla rimangono sempre i due titoli più scambiati per quanto riguarda proprio l'azionario globale, quindi per questo ci teniamo in particolar modo su Apple che visto anche i record che ha segnato quotidianamente e soprattutto si possono trovare anche delle importanti opportunità di investimento. Grazie mille Filippo Diorovic, Senior Strategist di IG, grazie per essere stato con noi e speriamo che abbiamo aiutato i nostri telespedatori per capire cosa attendersi da questo evento, cosa attendersi di questa azienda nel medio termine almeno e come posizionarsi sul titolo anche in vista dei vostri nuovi strumenti. Grazie ancora, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. E noi ci lasciamo, naturalmente rimaniamo in attesa dell'evento di Apple stasera alle 19, domani tutte le particolarità, sarà particolarmente interessante a vedere se ci sarà appunto questo nuovo iPhone 13 o se sarà iPhone 12S, se ci sarà il 5G, insomma tantissimi punti interrogativi, speriamo che vi abbiamo aiutato per capire meglio quali sono le attese, le difficoltà e i punti soprattutto positivi per quanto concerne l'azienda di Copertino California. Ci lasciamo qui, grazie mille per averci seguiti e buon proseguimento.